Dal 2017 ad oggi le presenze turistiche in città sono aumentate. Il Comune ha illustrato i dati che vengono fuori dalle rilevazioni Istat e regionali, elaborate dal settore studio e ricerche comunale con l'Osservatorio Culturale Urbano della città, realizzato grazie all'accordo tra Comune e Gran Sasso Science Institute. Gli arrivi e le presenze ovviamente hanno risentito della pandemia. Confrontando però l'uglio, agosto e settembre del 2021 contro il 2017, il dato segna un incremento del 48%, dato ancora migliore se si prende riferimento solo il mese di agosto. Anche le presenze di turisti italiani in strutture ricettive sono aumentate, come quelle degli stranieri. La provincia dell'Aquila ha visto un calo delle presenze, mentre l'Aquila è andata in controtendenza, con un incremento di circa il 18%. Inoltre è aumentato il tempo di permanenza media del turista. Per il sindaco questo è frutto della nuova narrazione che si è data della città, non più solo dolore e lutto, ma anche bellezza e rinnovamento. Il ruolo dell'osservatorio si pone anche come approccio scientifico per analizzare i dati e capire dove migliorarsi. Un incremento decisivo di arrivi e presenze nel periodo di riferimento. Siamo partiti dal 2017 fino al 2021, che sono gli ultimi dati disponibili, che fra l'altro sono stati analizzati. È uno dei primi lavori che fa l'osservatorio culturale urbano, l'ente, chiamiamolo così, che abbiamo istituito insieme al Gran Sasso Science Institute. C'è una crescita della città anche a fronte di una diminuzione di arrivi e presenze nella provincia dell'Aquila. C'è una crescita importante dei turisti stranieri, anche se in termini assoluti siamo ancora lontani da numeri decisivi. Complessivamente emerge che la città dell'Aquila è diventata molto più attrattiva. Il maggiore afflusso di visitatori in città è dettato anche dai più consistenti servizi messi a disposizione dell'utenza, come implementazione degli infopoint esistenti, segnaletica. Uno degli impegni sarà anche quello di promuovere gli eventi con largo anticipo. Le agenzie turistiche cittadine, ha sottolineato l'assessore al turismo Fabrizio Aquilio, stanno lavorando bene. La perdonanza rimane un evento molto attrattivo, che sarà pubblicizzato anche negli istituti di cultura italiani all'estero. L'Aquila, insomma, riesce ad offrire anche diversi tipi di turismo, proiettandosi come meta di prim'ordine. Anche la segnaletica turistica, che è multimediale integrata, ha avuto un favore ulteriore nell'ambito dell'accoglienza turistica. Abbiamo visto sicuramente i turisti davanti ai totem della segnaletica con il cellulare, cercando appunto di aprire quelle che erano tutte le varie informazioni. Da ultimo è diventata anche un'app che consente quindi, attraverso il QR code che è sui Mirabilia, che abbiamo messo davanti ai monumenti più significativi della città e delle frazioni, di individuare anche quelle che sono tutte le emergenze, non soltanto culturali e architettoniche, ma anche dove mangiare e dove dormire intorno al monumento.